Lutto tra i valletti comunali. Ieri all'età di 62 anni è scomparso Pietro Claudio Bartolozzi, uno dei tre gonfalonieri del comune di Prato. Per oltre 25 anni Bartolozzi ha fatto parte del gruppo storico dei figuranti e in molte occasioni ha portato il gonfalone comunale in rappresentanza della città di Prato. Bartolozzi era anche molto conosciuto per la sua appartenenza alla misericordia di Prato. Aveva il titolo di capoguardia e per questo ai funerali che si celebrano domani alle 9.15 presso l'oratorio di San Michele in via Convenevole, i confratelli e le consorelle dell'arci confraternita parteciperanno con la tradizionale cappa. Saranno presenti anche i valletti con il labaro del gruppo storico.